we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e io la pami allora ragazzi ultimo unboxing estivo estivo perché poi noi si ritorna perché poi noi si ritorna ragazzi abbiamo fatto l'unboxing di quelle fake no non è vero i primi erano fake i primi erano fake i primi cosa i primi personaggi non è che possono saperlo loro poi abbiamo fatto le carte della panini quelle ufficiali e adesso abbiamo una chicca ragazzi guardate ragazzi super fake cioè guardate che Zeus abbiamo poi abbiamo Lippi non potevo Lippi Ancelotti e poi abbiamo la subacquea abbiamo quella infucata la subacquea esiste ragazzi guardiamo la paletta che si è un po' quella di super maria le domande sono due ragazzi o ci sono delle skin che nessuno di noi ricorda o altrimenti sono veramente season 8 è poi notare season 8 non è che se le sei dimenticate magari c'era Nettuno ne l'ha season 8 per la corona non ce l'ho presente perché Zeus secondo me è Pietro come Zeus è Pietro? Zeus è Pietro spasmico è vero ragazzi ha la fasciatura di... apri ragazzi mille, duemila, tremille like per l'unboxing super fake voglio vederlo voglio vederlo dai dai facci vedere voglio vederlo ho paura ho paura vedere cosa esce ho paura ho paura ho paura dai facciò vedere che cos'è allora abbiamo prima di tutto abbiamo le carte come le carte? guarda il tuo pesce secco fallo vedere quasabi ho questo raga pronti ma sono carte attacco 21.591 energy salute 14.981 poi fai vedere questa che non so chi è allora il pesce secco ci sta ma questa cos'è una specie di ember questo dovrebbe essere ember raga ci sai come è fighissimo questo è un ninja eh no è una torta al cioccolato ragazzi abbiamo anche la card di ninja ragazzi non è mai uscita neanche ninja sa che c'è ma noi ce l'abbiamo ragazzi guardate che bello ma chi è? che bello ma chi sei? ma fai vedere ma fallo mettilo sotto la camera ma chi è questo? ma chi sei? sei un dio del mare è un dio del mare con dei pantaloni scoloriti con dei pantaloni pistacchio senti è bello sì no è sicuramente disegnato meglio ah un giugno c'è ancora una badena questo cazzo è grande quella busta lì questo è ecco che è Zeus ragazzi ma è ovvio che a parte che è Nettuno nel senso però vabbè Zeus lancia i fulmi Nettuno è il re dei mari scusa gli stai spanando il trecchietti non si infila il tridente dov'è che si infila? il tridente ragazzi il tridente signori abbiamo Zeus Fortnite season 8 lo appoggiamo qua è fake ma è bellissimo non è male tocca a me tocca a me piano 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 grande maco grande maco voglio vedere perché mi stai toccando le mie cose? voglio che non sia uguale apro apro piano apro piano e guarda tira fuori prima le carte abbiamo le carte ce le ho non guardare non lo guardiamo stai guardando no dai numero uno numero uno piano chi è questo questo qua è questa dovrebbero metterla come skin ma guarda che ce l'ho già come skin con la testa a bombetta questo qua si chiama Splode che non è ma questo ci assomiglia dai questo è il nostro Pietro Spas guardalo qua raga spasmentico spasplico sono queste carte che quelle originali raga e questo è vero sono più belle queste carte sono belle queste carte 13.345 di attacco non so chi sia ragazzi forse è un save the world non lo so ma tanta roba I want to see I want to see piano piano a una testa attenzione attenzione non guardo non guardo non guardo non voglio guardare non voglio guardare è l'ultima è l'ultima cart questo qua è palesamente è l'ultima cart che ho trovato questo questo è un altro grande un altro spiegami una cosa scusa si mette in mezzo le gambe allora si mette così il mitra è vero aspetta a cavallo no non è a cavallo è un po' più ma perché c'ha il buco dietro nel culo no no dietro ragazzi abbiamo trovato allora questo qua è ninja dei poveri con delle strane escrescenze alle spalle no è un super saiyan non è un super saiyan ha i capelli normali ma la vera domanda la vera domanda è il mitra dove si infila? ha le braccia incrociate e c'è dentro un mitra mi dite dove glielo infila del culo amore si infila qua guarda no ragazzi è proprio ganso look at this look at this super fake giraglielo giraglielo fagli vedere il mio è bello però che personaggi primi ciao io sono Nettuno comando le tempeste e ho il potere sugli elementi no sono Nettuno e te lo filo nel culo no no non è così vabbè ragazzi anche per oggi ragazzi se vi è piaciuto super like mi raccomando iscrivetevi al canale e ciò parte con codice suderone grazie fateci sapere se vi piacciono perché ve ne porteremo altri esatto ciao ragazzi grazie non parte mai l'altro grazie 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 grazie